Furto nella notte nel cantiere annesso al santuario del Santissimo Salvatore di Andria, dove sono in corso i lavori di realizzazione del nuovo altare esterno, il servizio di Francesco Rossi. Abitualmente Teledeon non si occupa di casi di cronaca nera, tranne in casi eccezionali. Una scelta in linea con le richieste che vengono dal nostro pubblico. Oggi ne sentiamo il bisogno perché vittima di una incursione notturna dei ladri è stato proprio il santuario del Santissimo Salvatore di Andria, alla cui ombra sorge la nostra emittente. Una vicenda che ha dell'incredibile. Una volta si diceva che rubare in chiesa era rubare due volte, e spiace dirlo, è esattamente così. Vittima dell'incursione dei delinquenti non è infatti solo il santuario, ma l'intera comunità che si ritrova in preghiera nel suo tempio. Questa notte, approfittando del buio, alcuni malfattori sono entrati nell'area attiva al santuario dove erano in corso i lavori di realizzazione del nuovo altare esterno, dove abitualmente vengono celebrate le liturgie nel periodo estivo. Lavori molto impegnativi dal punto di vista economico, ma addettati dalla voglia di ospitare nel miglior modo possibile i fedeli, già duramente provati dalla pandemia. Lavori che dovranno portare alla realizzazione di una struttura agile, funzionale, che possa far risaltare al meglio le celebrazioni in programma, a partire dall'annuale festa del Santissimo Salvatore in programma il 6 agosto. Una struttura che, nell'intenzione dei padri deoniani che gestiscono il santuario, dovrebbe porsi anche al servizio dell'intera diocesi, costretta a tenere le sue celebrazioni all'aperto in luoghi di fortuna o comunque non pensati e strutturati per quello scopo. Ebbene, i ladri hanno offerto un durissimo colpo proprio a questo progetto, portandosi via le impalcature, importanti e costosi attrezzi da lavoro e persino un'intera betoniera. Insomma, un danno economico notevolissimo. Naturalmente mattinate i padri deoniani hanno sporto regolare denuncia alle forze dell'ordine che tenteranno ora di risalire i colpevoli anche attraverso le immagini delle camere di sorveglianza. Ma, se anche dovessero riuscire a risolvere il caso, individuando i colpevoli, resterebbero indelebili i danni economici provocati e le ferite morali inferti all'intera comunità finita nel mirino dei delinquenti. L'auspicio è che la comunità si stringa attorno al suo santuario e dia una mano concreta per affrontare anche questa ennesima prova.